Il Movimento 5 Stelle annuncia che Gianluca Ciotta sarà il candidato sindaco. In realtà la nostra emittente già da circa due settimane aveva anticipato che Ciotta sarebbe stato il candidato dei grillini, venendo in maniera onestamente incomprensibile smentita proprio dalla metà palicatese. Ma tant'è, i fatti evidentemente ci hanno confermato che non eravamo lontani dalla realtà. Gianluca Ciotta, 45 anni, è laureato in scienze politiche, dipendente dell'Asp di Agrigento e in servizio presso l'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Collegata alla candidatura sindaco di Gianluca Ciotta ci sarà una lista del Movimento 5 Stelle. A giorni sarà indetta una conferenza stampa dove sarà presentato alla città il candidato sindaco e il progetto Licata 5 Stelle. Abbiamo predisposto un programma di lavoro che ci condurrà fino all'appuntamento elettorale del prossimo giugno, scrive Gianluca Ciotta, e stiamo lavorando duramente e concretamente per essere pronti a dimostrare che il Movimento 5 Stelle non è solo protesta ma soprattutto proposta ed è per questo che dimostreremo sicuramente capacità, competenza e conoscenza. Il candidato pentastellato ha aggiunto inoltre che occorre un profondo cambiamento, un rinnovamento totale della classe politica che invece con diversi colori tenta a perpetuarsi a Licata, ne è un esempio. Il nostro programma non sarà una scatola chiusa, conclude Ciotta, frutto di interessi di pochi e di segretari di partito, ne è un remake di proposte trite e ritrite il più delle volte irrealizzabile ed irrealizzate. E' un programma, il nostro, che vuole costituire il punto di partenza per una politica trasparente ed innovativa, coerente e concreta, fatta dai cittadini per la propria comunità. Con Ciotta diventano otto i candidati alla carica di primo cittadino in vista delle amministrative del prossimo 7 giugno.